Una tragica vicenda ha scosso rivoli provincia di Torino oggi sabato 28 ottobre Agostino annunziata 36 anni ha commesso un femminicidio uccidendo sua moglie Annalisa Dauria di 32 anni prima di togliersi la vita. L'atroce crimine è avvenuto nella loro residenza situata all'incrocio tra via Montebianco e via Gradisca a Rivoli. Dopo l'omicidio l'uomo si è diretto al suo luogo di lavoro a Orbassano e si è suicidato gettandosi da un silos. Entrambi erano originari della provincia di Salerno con lei originaria di Nocera Inferiore e lui di Pagani. Secondo una prima ricostruzione degli eventi l'uomo avrebbe ucciso la moglie ferendola alla gola portando poi la loro figlia piccola alla Massifondi in via Circonvallazione Esterna una fonderia nel settore dell'automotive dove lavorava come operaio. Qui ha affidato la bambina a un collega prima di allontanarsi per compiere il gesto estremo. Al momento le ragioni di questo tragico dramma rimangono sconosciute. La piccola è stata portata all'ospedale.